Una foglietta di guaderno ha già trovato in coppa una marciapite. Per capire che sei scritto, me l'hai pigliata. Lettere grosse e storte. A, B, C, D. Mille guaderni. Mille guagliuncelle scrivono uguali, o stesse a che l'età. Però quando si fanno grossicelle, il suo carattere è uguale. Chi ti dà? Non capisco, se questa è una pavia, non trovano più pace. Ma perché? Sturino per cagnare calligrafia e ognuno scrive come vuoi fare. Ci hanno creato una maniera sola. Chi cagna è per superbia, tutti chi? I guagliuncelle quando vanno a scuola scrivono tutte uguali. A, B, C, D. 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 A, B, C, D.